Ciao a tutti e benvenuti da Parafranz, oggi faremo un video unboxing di questo Magnum Neck Flash Ecco la confezione, purtroppo è in cartone, non è in alluminio come molti coltelli di questo marchio Perfetto, andiamo ad aprire la confezione e vediamo il nostro coltellino Eccolo qua, qua ovviamente la garanzia Boker di tutte le lingue possibili ed immaginabili tranne l'italiano E questo è il coltellino, abbiamo un pezzo unico di acciaio 440A, inossidabile ovviamente Con un manico gommato che garantisce un ottimo grip La custodia invece è in ABS, con brugola di regolazione per la tenuta del coltello Ma ha una grossa pecca, ovvero che i cordini si sfilano abbastanza facilmente Beh, devo dire che comunque si può cambiare cinghia, mettere anche per esempio una catena a sfere Per avere una maggiore tenuta, poi veramente molto lunga Potete anche fare un nodo migliore e il problema non si pone per niente Dove ho comprato questo coltello? Praticamente l'ho comprato in un negozio ad Albenga Stranamente sono al mare perché io amo la montagna ma ogni tanto anche il mare ci vuole C'è questo negozio che tratta articoli di militari, a caccia, pesca, soft air, coltelleria Chi più ne ha più ne metta A prezzi molto molto vantaggiosi Infatti questo coltello l'ho pagato meno di 20 euro Su Amazon.it purtroppo non si riesce a trovare perché le scorte sono finite Mentre se ve lo fate spedire dall'Inghilterra costa oltre le 23 sterline Nessuno mi ha pagato per fare questa pubblicità Però vi voglio dire la mia esperienza e ve lo consiglio questo negozio Si chiama American Magazine di Albenga Dovrebbe essercene anche un distaccamento più grosso Sempre qua in Liguria E per oggi è tutto da Parafranz Grazie per aver visto questo video Ci vediamo alla prossima